la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati alla nostra rassegna stampa, iniziamo con il mattino in apertura il nuovo governo e nasce l'asse Meloni-Macron primo consiglio dei ministri dopo il passaggio di consegne con Draghi la premier uniti contro le emergenze l'intesa con il presidente francese su gas, debito e guerra Mattarella non c'è pace senza diritti poi le prossime nomine tra vice ministri e sottosegretari campani alla carica di taglio alto, Napoli capitale, capolavoro di Ossimen nel finale mette K.O. la Roma, Azzurri a più 3 sul Milan andiamo di taglio basso, il nodo energia, Cingolani resta, luce, sconto per le imprese e poi il nodo auto, diesel e benzina, retromarcia dell'Unione Europea, stop dopo il 2026 questa era la prima pagina andiamo a vedere in primo piano il nuovo esecutivo il solco della continuità con il governo Draghi e sceglie un'auto italiana colloquio di 100 minuti Giorgia, occhi su di noi, non sbaglieremo l'ex capo della BCE, elogia la scelta di PNRR e fondi di coesione coordinati da Fitto per 100 minuti Mario Draghi e Giorgia Meloni hanno parlato nello studio del Presidente del Consiglio al primo piano di Palazzo Chigi da soli, senza alcun testimone, non si ricorda un colloquio altrettanto lungo prima del passaggio della campanella quel rito che segna la fine e l'inizio del mandato da Premier Draghi e Meloni arrivata all'incontro a bordo di una italianissima Alfa Romeo a indicare anche nei simboli quell'italianità che sarà la bussola della sua azione di governo hanno scelto la formula del tet-a-tet senza neppure la presenza dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, l'uscente, Alfredo Mantovano, l'entrante ha messi al colloquio solo negli ultimi minuti quelli dedicati al passaggio formale di consegne racconta chi ha parlato con i due Premier dopo l'incontro che lungo confronto è avvenuto nella formula della persona esperta Draghi che dà consigli, informazioni e soprattutto il quadro completo della situazione del Paese dell'emergenza energetica della guerra in Ucraina alla giovane e sorprendente leader Meloni che mostra di essere ben preparata e consapevole informata sui dossier e intenzionata a seguire in politica estera ed economica i suggerimenti del predecessore andiamo avanti il vertice Italia-Francia e Giorgia Bede Macron fronte comune nell'Unione Europea su gas, guerra e debito l'incontro anticipato a ieri in un hotel il presidente francese avanti con l'Italia il primo vertice informale tra i due la Premier collaborazione sui migranti che i due siano diversi e abbiano appartenenze differenti non è un mistero né lo è che in passato si siano più volte criticati a distanza ora però per l'appena proclamata Premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron è tutta un'altra storia da un lato c'è l'emergenza energetica che preme sul futuro di una Unione Europea alle prese con il conflitto ucraino dall'altro invece c'è l'asse Parigi-Berlino che traballa in cui l'Italia spera di inserirsi agevolmente sfide e opportunità che impongono di superare qualunque diffidenza e circospezione per costruire un rapporto solido sin da subito del resto spiega una fonte ai vertici del nuovo esecutivo se ci fosse stato un governo in carica Macron sarebbe volato sarebbe volato già 20 giorni fa a Roma per chiudere un accordo sul gas andiamo avanti rimaniamo ancora sul mattino il caro bollette energia Cingolani resta pronti gli sconti alle piccole e medie imprese l'ex ministro consulente di Palazzo Chigi sui dossieri europei che riguardano il gas a inizio del prossimo anno all'asta un pacchetto di elettricità a prezzo ridotto Roberto Cingolani resterà al governo non come ministro certo ma come consulente del presidente del consiglio Giorgia Meloni e del neoministro della transizione ecologica Gilberto Picchetto la decisione di mantenere un ruolo per Cingolani sarebbe stata presa d'accordo con Mario Draghi l'intenzione è quella di permettere un passaggio di consegne il più ordinato possibile soprattutto per quanto riguarda i dossier che si stanno discutendo in Europa sul price cap del gas e sul disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del metano non è ancora chiaro se l'ex ministro si occuperà anche dei rilassificatori a partire da quello di Piombino considerato essenziale per riempire le scorte per il prossimo inverno Cingolani e Picchetto si incontreranno oggi per un primo passaggio di mano sul dossier ma è probabile che al consiglio sull'ambiente al consiglio sull'energia previsti oggi e domani in rappresentanza dell'Italia vada ancora l'ex ministro cambiamo pagina sottosegretari in Pol Schifone e Cirielli di Fratelli d'Italia governo la campagna chiede spazio e in casa Forza Italia esplode il caso Caldoro Ermanno Russo e Di Nardo in corsa per Castiello della Lega possibile una riconferma il suono della campanella sancisce l'inizio dell'era Meloni fatto il giuramento tenuto il primo consiglio dei ministri comincia adesso la corsa ai ruoli di sottogoverno da assegnare ci sono 41 caselle nella war room di via della scrofa si comincia a ragionare sulle compensazioni e i risarcimenti chiesti dai partiti e dagli esclusi dimassi fuori dalla squadra di Giorgia il pressing dei territori è già partito e c'è chi comincia a sciolinare calcoli con pallottoliere in mano ora sud e campania siano protagonisti siamo la seconda regione per numero di voti per Forza Italia sottolineano dal coordinamento regionale degli azzurri un messaggio chiaro e diretto nel nuovo esecutivo i ministri campani sono soltanto due tra l'altro tecnici di area senza nessuna tessera il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano ministro della cultura e il prefetto Matteo Piantedossi numero uno del Viminale la precedenza come avvenuto per la composizione del governo andrà ai fedelissimi del neopresidente del consiglio gli addetti ai conteggi di Fratelli d'Italia ribadiscono che al partito che ha vinto le elezioni spetta il doppio dei posti rispetto alla somma di Forza Italia e Lega in Pol come vice ministro c'è Edmondo Cirielli che era stato tra i favoriti per il di Castello della Difesa dove l'ha spuntata Guido Crosetto Cirielli potrebbe essere nominato numero due della Farnesina come vice di Antonio Tajani tra i papabili sottosegretari il salernitano Antonio Iannone rieletto senatore e attuale commissario regionale di Fratelli d'Italia e la giovane deputata Marta Schifone sulla quale il partito ha investito e non poco nelle ultime politiche capolista in tre plurinominali andiamo avanti andiamo a vedere la guerra in Ucraina il piano russo del blackout reti a rischio sabotaggio allerta dell'intelligence di diversi stati nel mirino cavi e server delle centrali Francia Regno Unito e Germania schierano forze speciali per la difesa mentre l'esercito ucraino dall'assalto a Kershon e i russi si preparano alla grande ritirata costruendo con i mercenari di Progizin anche fortificazioni in profondità nei territori occupati lungo la cosiddetta linea Wagner le città le città dell'Ucraina si spengono una dopo l'altra sotto missili e droni russi che continuano a demolire le centrali elettriche e le infrastrutture critiche in vista dell'inverno è la guerra dell'energia che spaventa anche l'Europa la guerra ibrida di cui la Russia è maestra e che potrebbe aver già colpito col sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Baltico e forse col blackout del trasporto ferroviario in Germania qualche giorno dopo abbiamo perso con l'occupazione il 90% dell'eolico e il 40-50% del solare dice il ministro dell'energia ucraino l'energia verde è il settore più colpito perché la maggior parte si trova al sud si tratta di perdite enormi e con questo lasciamo il mattino ci spostiamo sulla prima pagina di Cronache in apertura l'intervento di Michelangelo Russo un masterplan per Salerno e non uno affaristico per la Litorania la location della Fiction l'avvocato malinconico ha fatto capire anche ai meno attenti il tesoro nascosto della città lavorare per inserire il nostro centro storico nel patrimonio UNESCO è un museo identitario nel vecchio tribunale abbandonato sotto la testata la Nissan parte da Napoli per rilanciare il green con le prove su strada e poi continua lo stato di agitazione ai dipendenti dell'asle non viene riconosciuta la progressione economica di lato Antonio Lombardi edilizia scolastica e PNRR erogato solo l'1% delle risorse centropagina salernitana e politica l'addio a fiore cipolletta una vita col granata nel cuore quel ricordo della tragedia dell'esle questa mattina i funerali torrione alle 12 il dolore dei camerati salernitani poi il fatto box di Corso Garibaldi dagli acquirenti partono le richieste di risarcimento di taglio basso l'assessore alla pubblica istruzione di Angri Giuse d'Antuono mense e trasporti ritardi per i tagli del governo l'intervista a Gianluca Camarano la birra e il nuovo caffè un marchio tutto mio a Pagani dopo 100 anni di attività vorrei riaprire la storica trattoria da Sarviuccio e termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e eccoci di nuovo in studio ben ritrovati riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno in apertura boom incidenti c'è il piano 30 limiti di velocità più stringenti sul lungomare strade a rischio e tornano gli autovelox il dossier dei vigili urbani due feriti al giorno il comune prepara le contromisure le economie previste meno assunzioni prete e colpa del caro energia andiamo sul centro pagina con la festa dello sport Strasalerno con 700 atleti corrono autistici e famiglie rimaniamo sul centro pagina con la cronaca malore sul garda muore il sub la città piange anche Mambor immersioni fatali per il salernitano persico e per l'ex capo dei Ross il raid a Portanova linea d'ombra vandali distruggono il totem per giocare con i conflitti di lato i controlli telecamere a piazza della libertà stanziati fondi troppe sono KO il lutto fiore cipolletta l'addio degli amici grande tifoso e missino storico questa questa era la prima pagina andiamo a vedere in primo piano c'è la cronaca le tragedie in acqua immersioni fatali due morti non ce la fa il sub del Garda il cuore del salernitano Nicola Persico cede inottata all'ospedale di Brescia crotone il mare restituisce il corpo del colonnello Mambor l'ex capo dei Ross due vite diverse che si incrociano in un fatale destino due morti dinanzi alle quali diventa difficile potersi dare una giustificazione Nicola Persico il salernitano 55enne che nel primo pomeriggio di sabato è stato soccorso dai suoi amici nelle acque del lago di Garda e trasferito in pessime condizioni all'ospedale civile di Brescia non ce l'ha fatta proprio mentre nel nord Italia i sanitari hanno perso la loro battaglia per tenerlo in vita in un altro ospedale questa volta in Calabria un'altra tragedia è stata colpita da un analogo lutto quella del colonnello Gabriele Mambor anche lui colto da un malore al largo della costa crotonese mentre faceva un'immersione l'ufficiale dei carabinieri originario di Roma a Salerno aveva trascorso un periodo della sua vita da comandante del reparto operativo speciale entrando in seconda battuta quella che poi ha prodotto l'iscrizione sul registro degli indagati di un suo collega Fabio Cagnazzo nell'indagine sulla morte del sindaco di Pollica Angelo Bassallo Lasciamo questa pagina andiamo avanti sempre sul mattino si parla di sicurezza incidenti due feriti al giorno limiti di velocità a 30 km sulle strade più a rischio drammatico il dossier dei vigili urbani la media delle vittime da 42 e 57 al mese centro storico 1300 accessi violati sabato mattina da incubo ai mercanti ogni giorno a Salerno vengono trasportate in ospedale almeno due persone coinvolte in incidenti si allunga la scia di sangue sulle strade del capoluogo tra incidenti investimenti tamponamenti nel capoluogo si registra nel terzo trimestre del 2022 una media di 57 feriti al mese il trend delle persone rimaste coinvolte in sinistri con prognosi tra i 5 e 15 giorni è in netto peggioramento infatti nel primo trimestre dell'anno la media era di 42 feriti al mese un lungo bollettino di guerra che non si arresta e che attanaglia tutte le strade cittadine rimaniamo a Salerno fondi per sorvegliare piazza della libertà ma troppe telecamere sono ancora K.O. bando da 104.000 euro ma resta spento l'impianto di Santa Teresa teatro di violenze e luogo di incontro per i giovanissimi cambiamo pagina l'economia previste meno assunzioni è per il costo dell'energia il dossier di Union Camere e ANPAL stima 17.850 ingressi tra ottobre e dicembre tra il presidente prete aumenti in bolletta momento drammatico per le imprese previsioni occupazionali in provincia di Salerno a ottobre sono programmate circa 7.410 entrate mentre nel trimestre ottobre e dicembre la previsione è di 17.850 quanto emerge dall'analisi del sistema informativo Excelsior realizzata da Union Camere e ANPAL che monitora le previsioni occupazionali delle imprese private dell'industria e dei servizi la provincia salernitana fa registrare a ottobre di quest'anno una riduzione della variazione della previsione delle entrate rispetto a un anno fa del 4,1% cioè meno 320 assunzioni un dato che tuttavia è in linea con il tren nazionale che è del 5 meno 5,4 questi dati sono molto legati al costo dell'energia spiega il presidente di Union Camere della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete rimaniamo su questa pagina i panificatori risparmiamo con i forni spenti per più ore per ora la serrata dei panificatori è stand by perché spiega il presidente dell'associazione Nicola Guariglia vogliamo attendere le mosse del nuovo governo a cui abbiamo inviato un documento contenente le nostre richieste per sollecitare risposte che non sono più procrastinabili ma nel frattempo siccome in pochi sono riusciti a pagare le bollette di luglio agosto e settembre e il rischio di vedersi tagliare la luce gas è altissimo provano a risparmiare su tutto la rivoluzione silenziosa del pane prevede forni spenti ore prima luci chiuse nei laboratori se non quando strettamente necessario è l'appalto a terzi per tutto quello che riguarda il capitolo biscotteria di taglio basso linea d'ombra vandalizzato il totem dei conflitti rotta la struttura per il ping pong a piazza Portanova Peppe D'Antonio hanno sporcato dice una cosa bella e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.